quei poveretti vivevano male con gli scarsi guadagni del marito dopo il matrimonio erano nati due figli e le ristrettezze dei primi tempi si erano trasformate in una miseria umile nascosta vergognosa la miseria della famiglia nobile che vuole a qualsiasi costo rispettare il suo ceto Hector de Griblain era stato educato in provincia nella villa paterna da un vecchio prete la famiglia non era ricca ma vivacchiava salvando le apparenze a vent'anni avevano cercato di sistemarlo facendolo entrare come impiegato subalterno da 1500 franchi al ministero della marina era naufragato su quello scoglio come tutti coloro che non sono preparati alle battaglie della vita che le vedono dalle nuvole che non conoscono i mezzi e le astuzie che non sono stati addestrati a sviluppare fin dall'infanzia le speciali attitudini la particolare facoltà la spra energia necessarie per la lotta tutti coloro i quali non sono stati messi in un'arma o in un'arnese i primi tre anni di ufficio furono terribili per lui aveva ritrovato alcuni amici di famiglia persone anziane anche poco fortunate che vivevano nelle strade nobili le cube strade del fauburg saint germain e sarà formato lì un giro di amicizie estranei alla vita moderna umili alteri quegli aristocratici bisognosi abitavano ai piani alti di case abbandonate la cima a fondo in quelle dimore gli inquilini erano titolati ma il denaro pareva scarso dal primo al sesto piano gli eterni pregiudizi il pensiero del nobile rango le preoccupazioni finanziarie assillavano quelle famiglie a un tempo brillanti e ora rovinate dall'inerzia degli uomini hector de griblaine incontrò fra costoro una ragazza nobile povera come lui e la sposò in quattro anni ebbero due figli durante i seguenti quattro anni le uniche distrazioni della famigliuola perseguitata dalla miseria furono le passeggiate domenicali agli champelize e una volta o due nell'inverno una serata a teatro grazie ai biglietti di favore offerti da un collega ma verso la primavera l'impiegato ricevette dal capufficio l'incarico di un lavoro straordinario che gli fu compensato con una gratifica di 300 franchi mostrando il denaro a sua moglie le disse caro henriette bisogna che ci offriamo qualcosa per esempio una gita coi bambini dopo aver lungamente discusso decisero di andare a mangiare in campagna una volta non diventa vizio esclamò hector non leggeremo una carrozza per te i bambini e la domestica e io prenderò un cavallo al maneggio mi farà bene per tutta la settimana non si fece che parlare della gita tutte le sere tornando dall'ufficio hector prendeva il suo figliuolo più grande se lo metteva a cavalcioni su una gamba e facendolo saltare velocemente gli diceva ecco come galopperà papà domenica prossima alla passeggiata e il bambino durante la giornata inforcava le seggiole girava intorno al salotto gridando ecco papà cavalluccio persino la domestica guardava con meraviglia il padrone pensando che avrebbe accompagnato la carrozza a cavallo e tutti i giorni a tavola lo sentiva parlare di equitazione raccontare le sue gesta nella sua casa paterna era stato a una buona scuola e una volta che avesse il cavallo fra le gambe non aveva paura di nulla proprio di nulla ripeteva sua moglie fregandosi le mani se potessi trovare un animale un po difficile sarai contentissimo vedrai come so montare a cavallo e se vuoi tornando dal boa de boulogne passeremo per gli champs di sé faremo la nostra figura e non mi dispiacerebbe affatto incontrare lì qualcuno del ministero è quel che ci vuole per farsi rispettare dai propri superiori il giorno stabilito la carrozza e il cavallo arrivarono al portone nello stesso momento Hector scese subito per esaminare la sua cavalcatura si era fatto cucire le staffe sotto i calzoni e agitava un frustino comprato il giorno prima sollevò e palpò una dopo l'altra le quattro zampe dell'animale gli tastò il collo le costole i garretti saggiò le reni col dito gli aprì la bocca ed esaminò i denti disse quanti anni aveva e dato che in quel momento stava scendendo la famiglia tenne una specie di lezione teorica e pratica sul cavallo in genere e su quello in particolare che trovava di primo ordine quando tutti si furono ben sistemati in carrozza controllò le cinghie della sella poi sollevatosi su una staffa cadde sull'animale che sotto quel peso cominciò a innervosirsi e per poco non disarcionò il cavaliere Hector agitato tentava di calmarlo via bello stai buono buono poi quando il cavallo ebbe riacquistato la calma e il cavaliere l'equilibrio quest'ultimo domandò siamo pronti tutti risposero in coro sì allora ordinò avanti la cavalcata si mosse tutti gli sguardi erano puntati su di lui trottava l'inglese sollevandosi troppo sulla sedia appena ricadeva giù schizzava in alto come se dovesse volare nello spazio spesso sembrava che stesse per cadere sulla criniera aveva gli occhi stralunati il volto contratto le guance pallide sua moglie che teneva sulle ginocchia uno dei bambini e la domestica che teneva l'altro ripetevano continuamente guardate papà guardate papà e due bambini inebriati dal moto dall'allegria e dall'aria fresca strillavano come pazzi il cavallo spaventato da quegli urli si lanciò di galoppo e mentre il cavaliere cercava di fermarlo gli ritolò per terra il cappello il cocchiere dovette scendere per raccoglierlo ed Hector quando l'ebbe riavuto disse di lontano a sua moglie non fargli gridare a questo modo farà imbizzarrire il cavallo mangiarono sull'erba nel bosco di veginè con le provviste portate nel baule della carrozza sebbene il cocchiere accudisse ai tre cavalli Hector si alzava di continuo per andare a vedere se al suo non mancasse nulla e lo accarezzava sul collo gli dava da mangiare pane dolci zucchero affermò è un buon truttatore da principio mi ha perfino sbattuto un po ma hai visto come mi sono ripreso subito ha riconosciuto il padrone e ora starà calmo come deciso da lui al ritorno passarono per gli Champs-Élysées il grande viale formicolava di carrozze e ai lati i passanti erano così numerosi che parevano due lunghi nastri neri che si sorrotolavano dall'arco di trionfo fino a place della concorde una pioggia di sole cadeva su tutta quella gente facendo scintillare le vernici dei calessi l'acciaio dei finimenti le maniglie degli sportelli una frenesia di movimento una ebbrezza di vita muoveva quella folla di persone di carrozze e di animali e in fondo si ergeva l'ubelisco in un vapore dorato il cavallo di Hector appena superato l'arco di trionfo fu preso da un ardore nuovo e andava al trotto attraverso le strade verso la scuderia nonostante i tentativi di placarlo del suo cavaliere la carrozza era indietro alle sue spalle quando fu davanti al palazzo dell'industria l'animale sentendosi vicino a casa volto a destra e si lanciò di volata una vecchia ingrembiule stava attraversando pian pianino la strada era proprio all'altezza di Hector che arrivava di gran carriera incapace di padroneggiare la bestia cominciò a gridare la squarciagola ehi attenta laggiù attenta forse la donna era sorda perché continuò ad andare avanti tranquillamente finché urtata dal pettorale del cavallo che andava come una locomotiva ruzzolò a dieci passi più in là con le gonne al vento dopo aver fatto tre capriole di testa si sentiva gridare fermatelo Hector sbigottito si aggrappava alla criniera urlando aiuto uno scossone tremendo lo fece passare come un proiettile sopra le orecchie del cavallo mandandolo a cadere fra le braccia ad un poliziotto che gli stava correndo incontro in un attimo si formò attorno a lui un capannello di gente furiosa gesticolante vociferante più di tutti appariva eccitato un vecchio signore con una decorazione rotonda e dei gran baffi bianchi ripeteva per dio quando si è così inetti si resta a casa non si va ad ammazzare la gente per strada se uno non sa andare a cavallo vennero avanti quattro uomini che portavano la vecchia sembrava morta col viso pallido e la cuffia di traverso tutta grigia di polvere portate questa donna in una farmacia ordinò al vecchio signore e andiamo al commissariato hector si incamminò fra i due poliziotti un terzo portava il cavallo seguiva la folla ed un tratto apparve la carrozza sua moglie si slanciò la domestica perse la testa i bambini pienucolavano lui spiegò che sarebbe tornato subito a casa che aveva gettato per terra una donna che non era nulla la famiglia costernata se ne andò al commissariato le spiegazioni furono brevi diede le generalità hector de griblain impiegato al ministero della marina e si misero ad aspettare notizie della vittima un agente incaricato dell'informazione tornò dicendo che la donna si era riavuta ma aveva terribili dolori interni era una donna di servizio aveva 65 anni e si chiamava simone saputo che non era morta hector si rinfrancò e promise di pagare le cure necessarie poi corse dal farmacista davanti alla porta c'era un gran pigia pigia la donna accasciata in una poltrona gemeva con le mani inerti e il viso attonito due medici la stavano ancora visitando non c'era nulla di rotto ma si temeva una lesione interna hector le parlò mi fa molto male sì molto dove dove è come un fuoco dentro lo stomaco si avvicina un medico signore siete voi responsabili dell'incidente sì signore bisognerà mandare questa donna in una clinica ne conosco una dove la prenderebbero per sei franchi al giorno volete che me ne incarichi io hector felicissimo lo graziò e tornò a casa sollevato la moglie lo stava aspettando in lacrime lui la tranquillizzò non è nulla la signora simone sta già meglio fra tre giorni non avrà più nulla lo mandata in una clinica non è nulla non è nulla il giorno dopo uscito dall'ufficio andò a prendere notizie della signora simone la trovò che stava mangiando soddisfatta un bel brodo grasso e così chiese lei rispose povero signore mio va sempre uguale mi sento come se non ci fossi più non sono affatto migliorata il medico disse che bisognava aspettare poteva sopravvenire una complicazione aspettato i giorni poi ritornò la vecchia che ora aveva un bel colorito roseo e uno sguardo limpido appena lo vide cominciò a lamentarsi non riesco a muovermi signore mio non ce la faccio rimarrò così finché campo un brivido corse nelle ossa di hector chiese di parlare col medico questi alzò le braccia che volete signore non so che dirvi urla quando cerchiamo di sollevarla anche se proviamo a spostare la poltrona strilla come un'aquila devo credere per forza quel che dice non so che cosa ha dentro finché non l'avrò vista camminare non ho il diritto di sospettare che menta la vecchia stava ad ascoltare immobile con uno sguardo sordione passarono otto giorni poi quindici poi un mese la signora simone non lasciava la poltrona mangiava dalla mattina alla sera ingrassava chiacchierava allegramente con le altre malate pareva essersi abituata all'immobilità come se fosse il meritato riposo dopo 50 anni passati a salire e scendere le scale a rivoltar materassi a portare il carbone da un piano all'altro a spazzare e a spazzolare hector sbigottito l'andava a trovare tutti i giorni e tutti i giorni la trovava serena e tranquilla ma lei gli diceva non ce la faccio a muovermi signore mio non ce la faccio ogni sera la signora de griblen chiedeva divorata dall'angoscia e la signora simone ogni volta suo marito le rispondeva disperato nulla di nuovo proprio nulla licenziarono la domestica perché pesava troppo sul bilancio fecero altre economie la gratifica se ne andò tutta così hector chiamò quattro medici illustri i quali si riunirono intorno alla vecchia lei si fece visitare tastare palpare guardandoli con malizia bisogna farla camminare disse uno di loro lei esclamò non ce la faccio signori miei non ce la faccio la presero la sollevarono la trascinarono per qualche passo ma ella sfuggì dalle loro mani e si accasciò sul pavimento mandando grida così spaventevoli che la riportarono nella sua poltrona con precauzioni infinite il loro parere prudente era che non poteva più lavorare quando hector portò questa notizia a sua moglie lei si lasciò cadere su una sedia balbettando conver a prenderla in casa ci costerà di meno lui si addirò qui in casa che dici rassegnata tutto lei dispose con le lacrime agli occhi che vuoi farci caro non è colpa mia